bella 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 ragazzi febbraio 2022 marco drums games presentazione dei giochi del play station plus del mese di febbraio 2022 come appena detto andiamo a vederli subito allora planet coaster veramente un bel gioco un gioco di costruzione fatto bene potete costruire il vostro parco di divertimenti potete fare le attrazioni potete anche costruire come volete vedete come in questa immagine le montagne russe come volete è un bel gestionale in italiano kerga quindi veramente una figata di gioco e se anche non è il vostro genere provatelo perché è dentro incluso nell'abbonamento non vi costa niente ed è veramente una sorpresa un gioco fichissimo ufc 4 elettronic arts gioco veramente bello di botte quindi insomma anche questo è tanta roba è incluso anche nelle a play quindi io ce l'avevo già incluso ps4 a tutti e due andiamo sul ps5 tinitinas assalt on dragon keep wonderland è il per se quel del nuovo borderland che deve uscire continua tinas con tinitinas che uscirà a breve mi sembra marzo deve uscire ok questo qui è un bel giochino da fare sempre sull'onda di borderland 3 comunque il gioco è quello il motore grafico è quello è veramente fico provatelo perché ne vale la pena non dura tantissimo ma è bello ok ragazzi da marco drums games channel è tutto mi raccomando di seguirmi sul canale su youtube facebook twitter instagram ttoc twitch mi raccomando di mettere un bel mi piace commentate e attivate la campanellina su youtube e twitch e portate i vostri amici sul mio canale così facciamo sempre video più fighi di qualità da playstation plus febbraio 2022 è tutto marco drums games channel vi saluta al prossimo video prossimo mese marzo 2022 ciao ragazzi mi dici